E' una ragazza, si chiama Alice. Cosa pensi del fatto che Dan abbia rovato la tua vita per il suo libro? Non sono cazzi tuoi. Quindi sei il fidanzato di Anna? Beh, una principessa può baciarlo, no? Perché mi hai detto che volevi dei figli? Perché li volevo. Adesso vuole i figli da lui? Sì, non lo so. Non farlo, sposa me, figli e tutto quanto. Mica vorrai dei figli da quello. E telefonavi per implorarla di ritornare quando andavi a fare le tue lunghe passeggiate da sola. Sì, scopa bella. Non fare così. Rispondi alla domanda, bravo. Sì. Pensare che mi bagno quando mi spoglio per degli sconosciuti non ti eccita. Che cos'altro potrei volere? Questo ti farà male. Sono stato con Anna. Ci sei andata a letto, vero? Sì. Sarai la mia puttana e io ti ripagherò con la tua libertà. Sì. 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 Ancora? Ma dobbiamo alzacce alle sei. Come fa un uomo solo a deluderti in così tanti modi? Tu non sai niente dell'amore perché non capisci il compromesso. Tu non conosci nemmeno Alice. Un uomo solo a deluderti in così tanti modi? Come fa un uomo solo a deluderti in cui? Torri è un uomo solo a deluderti in così tanti modi? E' un uomo solo a deluderti in così tanti modi? Grazie a tutti.